E' un domino in azione! Luca, cos'è quella roba là? No, l'altro! Modina! Calcio lungo! Siamo rustici! Noi, l'altro! Mi silloica, ma silloica! Ma insieme a noi, l'altro! Ma diciamo! ..A si che le ore ore oci! Grazie a tutti. Vediamo Marco. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.